C'è anche Occherec e anche Mungo in avanti, Tutino prova il tiro e il gol di Tutino, il raddoppio del Cosenza, 2 a 0 in apertura di secondo tempo, sono passati appena 3 minuti e il Cosenza raddoppia, il Cosenza si avvicina nettamente alla Serie B. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!